Perché una volta si raffreddava le mitragliatrici d'acqua e oggi no? Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad, sparo e so cose sullo sparare. E questa domanda mi è stata posta da uno di voi e l'ho trovata molto interessante. Nell'immaginario per esempio della prima guerra mondiale vediamo queste mitragliatrici piazzate in posizioni difensive con questi grossi contenitori intorno alla canna, contenitori che contenevano appunto acqua e servivano al raffreddamento. Di questo tipo di tecnologia se ne vedrà sempre di meno man mano che gli anni avanzano e con la fine della seconda guerra mondiale quasi tutti i mitragliatrici d'acqua spariranno. Un ultimo revival c'è stato recentemente nella guerra in Ucraina dove abbiamo visto delle maxime sovietiche spesso in seconda linea o spesso montate come antiaerea. A noi questo cilindro di raffreddamento salta subito all'occhio e ci sembra immediatamente una cosa estremamente obsoleta. Ma spiegare perché è nato in primo luogo il raffreddamento ad acqua e perché è caduto in disuso non è affatto così banale. Nel mondo delle armi da fuoco, nella storia della guerra, questa cosa vale per molti altri campi, ma noi ci occupiamo di questo su questo canale, nasce prima l'uovo o la gallina? O meglio, nasce prima lo strumento tecnico o l'esigenza tattica? Ecco, la risposta a questa domanda è che nella stragrande maggioranza dei casi nasce prima l'esigenza tattica e le armi si adegano a una specifica esigenza posta da un esercito. Le primissime mitragliatrici, le primissime armi autocaricanti in assoluto, non erano raffreddate ad acqua. I primi famosi prototipi di Maxim non erano raffreddati ad acqua. Le mitragliatrici Madsen, altre armi quasi dimenticate, ma fra le primissime armi autocaricanti, non erano raffreddate ad acqua. I primi progetti di Mannlicher non erano raffreddati ad acqua. La prima mitragliatrice fatta da John Moses Browning non era raffreddata ad acqua. In realtà le mitragliatrici nascono come armi non raffreddate ad acqua. Ricordiamoci che le mitragliatrici sono nella loro infanzia e molti eserci che si approcciavano alla questione delle mitragliatrici con molto scetticismo, anche perché non erano sicuri di come usarle a livello tattico. Hai fatto un'arma che può sparare molti colpi in minuto? Bravo! Ma come la implemento io nelle mie unità? La risposta che diedero a questa domanda la maggior parte delle mie potenze dell'epoca era usare tendenzialmente la mitragliatrice come un pezzo di artiglieria leggero. Le prime mitragliatrici, penso soprattutto le maxime, avevano degli affusti che ricordano quelli dei cannoni, venivano trainate da cavalli e spesso avevano tantissimo personale che serviva il pezzo. Gli eserci dell'epoca videro nella mitragliatrice la possibilità di avere una potenza di fuoco in un pacchetto relativamente compatto rispetto ai cannoni, non tanto rispetto alle armi portate nei individuali dei soldati. E in tal senso la mitragliatrice doveva in qualche modo, da una posizione fissa, sviluppare una potenza di fuoco che ricordasse più l'artiglieria, piuttosto che il fuoco della moschetteria e della fucineria. E' proprio a tal fine, in questo contesto, che appare il raffreddamento d'acqua, che il raffreddamento d'acqua inizia ad avere un senso. Nel momento a cui abbiamo un affusto molto pesante, trainato da cavalli, servito da tanto personale, che viene usato come artiglieria, quindi sviluppando giganteschi volumi di fuoco anche a grossa distanza, allora che il raffreddamento d'acqua inizia ad avere un senso. Ovviamente il raffreddamento d'acqua presenta, tecnicamente parlando, vantaggi e svantaggi. Il primo ovvio vantaggio è che un'arma del genere ha la capacità di resistere al fuoco continuo assolutamente superiore al normale armi. L'acqua infatti scambia molto bene il calore e continuando a rifornire la mitrellatrice di acqua si può prevedente continuare a sparare senza interruzione, almeno in teoria. L'arma inoltre è meno sensibile alle condizioni atmosferiche, infatti usare una mitrellatrice raffreddata ad aria in condizioni di caldo, per esempio, è più complicato, l'arma si scalderà molto prima, mentre un'arma raffreddata ad acqua tendenzialmente è molto meno sensibile a condizioni atmosferiche esagerate, in tal maniera ha maggiore potenza di fuoco ma anche maggiore affidabilità, proprio perché non fa affidamento a fattori esterni come vento e temperatura per raffreddarsi, ma il raffreddamento è integrato nel sistema dell'arma e bisogna soltanto continuare a rifornirla ad acqua. Qui ovviamente esce fuori il primo difetto, richiede un rifornimento costante di acqua, che non sempre, in tutte le condizioni, in tutte le situazioni, è agevole avere. Ma ripeto, se pensiamo alla mitrellatrice come un pezzo di artiglieria su un treppiede o su un affusto da cannone, potremmo dire servito da tante diverse persone, non solo da un tiratore o un servente, ma proprio da una piccola squadra di fanteria, allora ha perfettamente senso. Ci sta l'organizzazione necessaria dietro per mantenere questo sistema d'arma in funzione. Vi è una maggiore complessità nella manutenzione, ovviamente perché questo tubo dell'acqua va a un certo punto smontato o va pulito, vi è la possibilità che se si usa per esempio acqua salata o acqua sporca che rimangano all'interno dei residui che vadano a corrodere il contenitore stesso, oppure la canna. E ovviamente vi è decisamente un peso maggiore, perché tutta questa acqua, lasciando stare proprio il contenitore, tutta questa acqua pesa. Ma nell'ottica appunto di utilizzo di quest'arma, come se fosse un piccolo pezzo di artiglieria, comunque da posizioni fisse, era un problema minore, era un compromesso. Tutte le cose di design, anche dei telefoni, dei computer, delle macchine, e delle armi da fuoco, sono frutto di design. Si può avere la leggerezza, o si può avere la potenza di fuoco, si può avere l'affidabilità, ma dobbiamo rinunciare a qualcosa come la maneggevolezza dell'arma. Vorrei sottolineare che in questo contesto non tutti utilizzavano il raffreddamento d'acqua. Mi viene in mente soprattutto i francesi, che adottarono due mitragliatrici in grossi numeri, la Saint-Étienne nel 1907, e la Hotchkiss nel 1914, che non erano raffreddate ad acqua, pur essendo tatticamente delle mitragliatrici pesanti. Avevano altri accorgimenti per aiutare con il raffreddamento, aumentando per esempio la superficie della canna a contatto con l'aria. Quando per esempio su questo tipo di arma si vedono, non so neanche come descrivergli, una specie di anelli che escono fuori dalla canna, quello serve ad aumentare la superficie a contatto con l'aria, per aiutare il riscaldamento. Quella è l'unica funzione di questa strana cosa che molti mi hanno chiesto a che serve. Non è una cosa estetica, è esclusivamente per il raffreddamento. Arriveremo però alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, come sicuramente ben sapete, molto rapidamente si trasformerà in una guerra di trincea. In questo contesto il ruolo difensivo della mitragliatrice ci è noto a tutti. In tal contesto il raffreddamento all'acqua funzionava perfettamente. Certo, spesso era difficile rifornire di acqua a queste mitragliatrici, abbiamo molte lamentelle dell'epoca di questo problema, che c'era un'altra cosa che bisognava trasportare fino al fronte, tra l'artiglieria, il fango e la morte. Trasportare tutta quest'acqua che si doveva dare alla mitragliatrice, piuttosto che ai soldati assetati, iniziava ad essere un problema. Ma la vera svolta fu la tattica. Per rompere lo stallo delle trincee si svilupperanno tattiche di piccole squadre. Tattiche di piccole squadre, con il giusto supporto di fuoco, di varie sistemi d'arma, potranno fare attacchi localizzati, quindi attaccare alcuni punti, per rompere lo stallo della trincea. Queste cose verranno sviluppate da tutte le linee azioni in varia varianti. Queste tattiche di fanteria necessitavano di tutta una nuova serie di armi d'appoggio che non sempre gli eserciti avevano. E per accontentare queste tattiche, quindi arriva l'esigenza tattica, e poi arriva l'arma, proprio per questa esigenza tattica, verranno sviluppate tante nuove armi. La fanteria verrà sempre più dotata di bomba a mano, si svilupperanno banalmente i mitra, i mortai saranno sempre più diffusi, vedremo i primi lanciagranate, e vedremo anche lo spopolare delle mitragliatrici leggere. La mitragliatrice leggera era una cosa che già esisteva prima della Prima Guerra Mondiale, ma la sua implementazione, proprio per una apparente assenza di un bisogno tattico, non era molto diffusa. Nel momento in cui si ha bisogno della mitragliatrice leggera, o per una mitragliatrice che posso portare avanti con me, che può appoggiare l'attacco dei miei soldati, e può anche difendere dal contrattacco dei soldati nemici, beh, il peso aggiuntivo del raffreddamento ad acqua e dell'acqua stessa, inizia ad essere un serio problema. In questo momento il compromesso suggerisce di rinunciare un pochino alla potenza di fuoco per avere un'arma più maneggevole, anche perché pensate, una volta che avanza il fronte e dovete portarvi tutte le armi, è meglio avere una mitragliatrice che ha una ridotta potenza di fuoco, o meglio non avere nessuna mitragliatrice perché non la potete spostare? Tosto meglio avere la mitragliatrice con una ridotta potenza di fuoco, ma che potete portare con voi. Che uso ha un'arma che non vi potete portare appresso? Le mitragliatrici leggeri e i fucili automatici spopoleranno in questo momento e tutte queste armi adottano sistemi non raffreddati ad acqua. Vi è forse l'eccezione dei tedeschi che comunque cercarono di adattare la loro MG 08 a ruolo leggero, ma non era leggera. Forse era la peggiore mitragliatrice leggera del conflitto da questo punto di vista, ma tutte le altre armi e tutte le altre mitragliatrici tendenzialmente erano raffreddate ad aria. E così rimarrà, perché le tattiche di fanteria dopo la Prima Guerra Mondiale, andando verso la Seconda e oltre, si concentreranno molto sulla mobilità delle piccole squadre d'assalto. Cesserà di esserci l'esigenza tattica per una mitragliatrice pesante, una postazione fissa di mitragliatrice pesante. E c'è un esempio che spiega estremamente bene questa cosa, il ruolo tattico di un'arma del genere. Nel 68 l'esercito inglese rinuncia alle proprie Vickers, le Vickers ovviamente mitragliatrici pesanti, raffreddate ad acqua, che utilizzavano fin dalla Prima Guerra Mondiale. Sapete con che cosa sostituiscono le Vickers? Le sostituiscono con i mortai da 81 mm. È interessantissimo perché questi mortai vanno a riempire, vanno a svolgere tatticamente lo stesso ruolo della Vickers, ovvero di un pezzo di artiglieria, chiamiamolo leggero. Questa è una cosa, secondo me, interessantissima, ma che spiega perfettamente quale fosse l'uso di quest'arma. In tal maniera il raffreddamento ad acqua sparirà. Ma non del tutto. Ci sono ancora oggi sistemi d'arma. Penso infatti a una serie di pezzi di artiglieria leggeri, cannoni anti-aeree principalmente, che sono ancora oggi raffreddati ad acqua. E se in un futuro, per qualunque ragione, l'esigenza tattica imporrà che la mitragliatrice debba sviluppare grossi volumi di fuoco in una posizione fissa, siete sicuri che il raffreddamento ad acqua tornerà. Ripeto, è l'esigenza tattica che va a muovere lo sviluppo tecnologico o le scelte della tecnologia. Spero che questa breve lezione sul raffreddamento ad acqua vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto e come sempre ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.